Conferenza stampa questa mattina all'albergo Palazzo a Livorno per la candidatura a sindaco di Alessandro Guarducci con la lista Livorno Torna Grande, appoggiato dal centrodestra. Al tavolo, insieme all'ex giornalista, giornata Giubilei di Noi Moderati, Chiara Tenerini di Forza Italia, Susanna Ceccardi della Lega e Marco Lisei di Fratelli d'Italia. Guarducci sfiderà al momento l'attuale sindaco Luca Salvetti, ricandidato e appoggiato dal centrosinistra. E Valentina Barale, appoggiata dal Movimento 5 Stelle, potere al popolo e buongiorno Livorno. Per Guarducci servono lavoro e investimenti. Il livornese deve ritornare a pensare in grande, deve ritornare a pensare ad eccellere come è il destino di Livorno e lo possiamo fare solamente con alcune semplici mosse. Avere intanto coraggio, quindi sognare ma essere anche pragmatici, scelte importanti sul lavoro, assolutamente che in questi anni è stato dimenticato. Bisogna puntare su tutti i tipi di lavoro, non può reggere un'economia come è attualmente, formata solamente sul terziario e su un turismo povero riservato solamente ai livornesi o poco più. Guarducci si dice aperto anche a nuove alleanze. A tutte le forze che vogliono far tornare grande Livorno, però lo devono far per davvero, non facciamo finta di fare riformisti o via dicendo, quando invece si vuole mantenere lo status quo come è accaduto in questi anni. Italia viva, ci ho parlato, per ora loro sostengono l'attuale sindaco, vedremo nei prossimi cinque mesi. Cinque mesi di campagna elettorale sono lunghi. Grazie. 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 Grazie.